E' ovvio che si, è da un po' decidere Ma domanda che come... Domanda che parla di tutti E' 27 noti che dice E' un po' decidere E' un po' decidere Se chiedevamo le vostre intenzioni E' un po'特別 E' un po' imperative Semplicemente no, cosa è la tua? mira, mi ascolti secondo me basta la... la soffiamo quando andiamo fuori lì eh? non è che si parla questo accoride, sta più... questo accoride, sta più...